A casa non è cosa, non è giusto. I signori desiderano ordinare? Ordinare? Sì. Allora, per me è una Coca-Cola. Una Coca-Cola. E per il signore? Portami una bionda. Una bionda. La vuole grande o piccola? Ma insomma, 20-25 anni va bene. Poi me la prenderò in un'altra storia, non preoccupare.